Alla gente, al pubblico, piace la vittima, piace più scoprire che essere accredito. E così ha simpatia e tenerezza per il poveraccio. Ecco il segreto del tuo successo, tu sei proprio un poveraccio. La vecchia, quando la vecchia sta davanti al televisore, ha tenerezza e simpatia, dice, guarda Corrado, poverello, tutti se la prendono con Corrado, dice. E lui lì impalato, buono buono, non dice niente. Quanto è simpatico Corrado, dice la vecchia. E vota per te. La televisione devi confermare. E la vecchia è contenta, giovane o meno, ma fa la televisione quello che conta, la vecchia. Allora, dire a metà degli anni Sessante, capire che per la televisione quello che conta è la vecchia. E consideriamo che parlavamo allora di televisione, come oggi parliamo di internet, del web 2.0, del più avanzato terminale dell'immaginario. Alberto Sordi lo ha detto, per la televisione quello che conta è la vecchia. Capì il profondo senso di arretratezza comunque di ogni lettura televisiva. Non è il giovane che importa, è la vecchia. Oggi ci stiamo eviscerando sulle analisi del digitale terrestre e delle nuove piattaforme di distribuzione, ma alla fine quello che conta tuttora è la vecchia.